Si va componendosi la squadra del sindaco Giulia Mugnai con gli assessori che la supporteranno nel difficile compito di altri cinque anni con la fascia da primo cittadino. Fissato già il primo consiglio comunale che si svolgerà venerdì 21 giugno alle 18 in piazza Marsilio Ficino a Figline Valdarno, proprio in piazza per stare tra i cittadini, obiettivo primario del mandato di Mugnai. Sono arrivati intanto i primi due nomi degli assessori che avranno tra l'altro deleghe pesanti. Il primo è l'annunciato Daniele Raspini che si prende la carica di vice sindaco e le deleghe ai lavori pubblici, centro storici, turismo e promozione del territorio. L'altro è Paolo Bianchini con deleghe altrettanto pesanti come l'urbanistica, edilizia privata, ambiente, rifiuti, mobilità e trasporti. Mancano adesso gli altri tre assessori che comporranno la giunta per poi avere il quadro completo del consiglio comunale che al momento è stato riassunto con uno schema semplice ed efficace dall'ufficio stampa del lente. Prima del 21 giugno dunque sapremo anche gli altri nomi. Il consiglio sarà ovviamente a porte aperte e forse non l'unico che il sindaco Giulia Mugnai vorrà portare in piazza nei prossimi cinque anni.